Poi succede che cresci e capisci che il mondo non ti deve niente, che tutto quello che puoi avere te lo devi prendere con le unghie, con i morsi, con la fatica e non ti devi mai arrendere perché quello che credo io è che se la musica è davvero la tua passione, se la danza è davvero la tua passione sarà un amore che non smetterà mai, sia che tu lo faccia in uno stadio ossia che tu lo faccia per strada o in un pub con cinque persone quando voi ballate, quando noi scriviamo una canzone, quando canti penso che sia il momento in cui te stoppi il mondo fuori e lì sei libero per cui il consiglio che vi do io, che ripeto è un consiglio, non è un insegnamento cercate di non tradire voi stessi, mai e cercate di capire che non vincere amici non vuol dire perdere perché il mondo è fuori che ora sembra semplice tutto, però poi la vita vera arriva dopo e dopo c'è da lavorare, ma non che non lo state facendo adesso però c'è da crederci a presto